Ciao ragazze, eccomi tornata finalmente con un nuovo video scusate l'assenza della settimana scorsa ma non sono riuscita a pubblicare niente comunque come potete vedere alle mie spalle sono ancora nella mia cameretta ancora non mi sono trasferita perché ci sono dei piccoli lavori ancora da finire questa casa sembra non finire mai e quindi insomma non sto ancora vivendo là però dormo praticamente più là che qua comunque a parte questo per chiusa parentesi oggi registro un video all voglio farvi vedere tutti gli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo sono acquisti super autunnali partiamo subito come prima cosa parto da questo cofanetto che mi è arrivato da Daniel Wellington Daniel Wellington si sta già preparando per il Natale e mi ha dato la possibilità di scegliere un cofanetto con all'interno un orologio e un bracciale sul sito trovate tanti cofanetti tra cui poter scegliere io ho scelto questo che contiene l'orologio con il cinturino in pelle bianco mi mancava un orologio con il cinturino bianco so che come colore in realtà il bianco è più un orologio estivo per l'estate però mi mancava per tanti orologi che possiedo e quindi ho deciso insomma di scegliere questo bianco che mi piace molto l'ho scelto sempre con il quadrante oro rosa e oltre all'orologio ovviamente essendo un cofanetto c'è anche il bracciale in questo caso all'interno del cofanetto che ho scelto io troviamo il bracciale oro rosa ovviamente in taglia S con la scritta Daniel Wellington è super sottile però io lo trovo davvero elegante, super raffinato guardate come sta bene mi piace davvero tanto ho potuto trovare anche in taglia M non ricordo esattamente il prezzo di questo cofanetto però vi lascio il link qua sotto nell'info box se volete andare a curiosare inoltre come sempre Daniel Wellington mi ha dato un corice sconto per voi del 15% è già da fra da utilizzare sul loro sito e tra l'altro mi hanno comunicato che oltre al 15% che vi sto dando io potete usufruire anche del 10% che è già presente sul sito per tutto questo periodo natalizio quindi che va dall'inizio novembre fino a fine dicembre ottima occasione per farsi un regalo o magari pensare già a qualche regalo per Natale adoro Daniel Wellington lo sapete possiedo tanti dei loro orologi mi piace cambiare, mi piace variare e sono contenta adesso di avere quest'altro set che mi piace davvero tanto per quanto riguarda invece lo shopping che ho fatto per i negozi ho preso è questo cappotto ragazza che sto adorando e da quando l'ho comprato vi assicuro che è l'unico cappotto che ho utilizzato che sto utilizzando questo l'ho trovato da H&M ero alla ricerca disperata di un cappotto color cammello adoro questo colore super super lungo quasi che arrivasse alle caviglie e l'ho trovato appunto da H&M tra l'altro ha un prezzo super accessibile perché l'ho pagato 50 euro è super super morbido tiene un sacco di caldo io l'ho preso in taglia 36 e mi piace indossato con ogni tipo di look dalle scarpe da ginnastica agli stivaletti ai tacchi mi piace davvero indossato con tutto adoro il fatto che sia così lungo adoro il colore secondo me non può mancare nell'armadio un cappotto color cammello lungo da utilizzare in più e più occasioni poi sono stata da Stradivario se l'unica cosa che ho acquistato è stata questa magliettina che mi ha conquistata innanzitutto per il colore perché il bordeaux secondo me è un colore super indicato per l'autunno sempre per quanto riguarda i rossetti adoro utilizzare il bordeaux anche nei vestiti un po' come il cappotto cammello anche il bordeaux non deve assolutamente mancare nel guardaroba in questo periodo comunque è una magliettina super super leggera in realtà quindi non tiene caldo però la trovo molto elegante è trasparente ma non troppo però comunque la indosso con una canottiera nera di pizzo sotto ha manica lunga ha leggermente leggermente dei volanti alla fine della manica e alla fine della magliettina stessa l'ho presa in taglia S se è questa non ricordo ma non l'ho pagata tantissimo circa sui 13 euro e mi piace un sacco indossata con delle gonne a vita alta e la magliettina all'interno perché è una magliettina però non è super lunga quindi secondo me sta bene con delle gonne a vita alta poi da Zara ho preso questo maglioncino e che colore potevo scegliere? non sono un cammello colore biscotti vi ho detto che sto amando questo colore tra l'altro ho preso ancora un'altra cosa di questo colore che vi faccio vedere dopo questo ancora non l'ho indossato ho preso la taglia S costava 40 euro è un maglioncino a collo abbastanza alto come potete vedere ha manica lunga con la manica un pochettino ampia poi c'è il polsino in vita che si stringe dietro è fatto in questo modo è molto semplice in realtà però mi piace molto mi piace il colore è super morbido anche questo e anche se non l'ho ancora indossato si sente dal tessuto che è uno di quelli che tiene caldo che scalda e quindi non vedo l'ora di indossarlo poi sempre da Zara ho preso questi pantaloni sono dei pantaloni abbastanza classici elasticizzati in vita e questa cosa mi piace molto perché gli indossati sono davvero super comodi ci sono le taschine le taschine indietro ma la cosa che mi piaciuta tanto di questi pantaloni è che sui lati ci sono queste righe bianche che vanno fino alla fine del pantalone li adoro perché gli indossati come vi dicevo sono super morbidi non danno fastidio cioè sono proprio comodi è un pantalone stretto ma non eccessivamente stretto quindi per questo motivo tanto proprio morbido sulla gamba e quindi non dà fastidio davvero sembra di indossare dei leggings io voglio stare sempre comoda e con questi rendo il mio look un po' più particolare comunque in tutta comodità sono ben indossati sia con dei tacchi che con delle sneaker con delle camicette con dei maglioncini sono davvero super avversati questi pantaloni li adoro mi pare di averli pagati sui 40 euro tra l'altro devo buttare in lavatrice perché ero qui in giro per casa poi ho fatto un po' di shopping sul sito di ASOS nel primo ordine ho acquistato questi stivali alti che adoro piacciono davvero tanto sono super comodi sono degli stivali bassi hanno un po' di tacco ma praticamente sono stivali a terra non hanno la zip non hanno l'elastico eppure restano non cadono ne ho un paio che ho preso su ASOS l'anno scorso con l'elastico al ginocchio diciamo ma tendono a scivolare mentre cammino dopo un po' mi cascano invece questi nonostante non abbiano un elastico nonostante non abbiano un adipendente sono perfetti restano al ginocchio e arrivano al ginocchio però non cadono anche se ci cammino su per tante tante ore lo stivale resta così è uno stivale scamosciato non ricordo il prezzo esatto però non li ho pagati tantissimo massimo 50 euro mi piacciono un sacco questi stivali indossarli con dei vestitini delle gonne vitalte delle camicette secondo me sono davvero super super belli adesso li sto puntando anche color sabbia però ancora non li ho trovati poi ho preso sempre su ASOS e su tutte le cose che vi faccio vedere arrivano da ASOS se riesco a ritrovare i link ve li lascio scritti qua sotto nell'info box anche perché non ricordo assolutamente i prezzi ho preso questa tutina che mi ricorda il Natale cioè questo verde mi ricorda il verde dell'albero di Natale quindi ho associato subito questa tutina questo jumpsuit appena l'ho visto al Natale l'ho pensato proprio per le feste in realtà è un tessuto abbastanza leggero quindi non terrò caldissimo indossato anzi quasi per niente perché è davvero leggero però mi piaceva molto perché ha questo colletto che trovo davvero elegante poi c'è questo taglio sul seno è leggero non è una cosa eccessiva quindi mi piace indossata resta abbastanza morbida forse si può vedere anche da qui tanto è che sembra quasi un vestito secondo me questo questo jumpsuit è perfetto con gli stivali indossati gli stivali che ho fatto vedere prima però forse è un pelino un pelino corto per i miei gusti poi ho preso questo completo sono stata conquistata da questo pigiama e l'ho preso in taglia 40 è un pigiama color salmone a pua con i pua bianchi la parte di sopra la maglietta la camicetta è fatta così proprio sembra una camicetta vera e propria con i bottoncini con lo scollo V c'è anche una specie di colletto ovviamente a manica lunga con i bottoncini no i bottoncini non ci sono a manica lunga e sembra proprio una quasi una camicia da notte però è corta davvero corta i pantaloni invece ragazzi sono mi vanno bene però sono larghissimi sul fondo guardate quanto sono larghi indossati c'è di vita mi sono perfetti c'è l'elastico in vita c'è il fiottettino il nastro per fare il fiottettino però cadono super super morbidi il pantalone è praticamente un pantalone culotte l'unica cosa che è un pigiama ed è un po' leggerino per questo periodo è vero che io quando vado a dormire sotto le coperte non sopporto avere pigiamoni cose ultra pesanti cosa che invece mi piace indossare se sto in casa mentre vivo lavorare al computer fare cose allora mi piace dare il pigiama culoso super pelucioso ma se devo dormire preferisco qualcosa di più leggero perché non ce la posso fare quindi questo sicuramente è perfetto per dormire perché è davvero bello leggero però per stare in casa secondo me sentirò sicuramente freddo non mi piace stare più calda durante la giornata se sto in casa a lavorare poi l'ultima cosa che ho preso sul sito di Asos per quanto riguarda l'abbigliamento è questa magliettina ovviamente che colore potevo sceglierla se non colore sabbia colore biscotto ho scelto questa anche questo lo presenta agli a 40 è una magliettina e un maglioncino con questo tessuto a righe la manica resta leggermente ampia sul fondo davanti è abbastanza semplice con il collo abbastanza alto e dietro sulla schiena c'è questa scollatura questa leggera scollatura che mi piace molto anche questa maglietta la vedo benissimo indossata con delle guanna vita alta e magari sempre gli stivali che vi ho fatto vedere prima adoro questi look maglioncino aderente che hanno magliettina aderente guanna vita alta e stivali alti al ginocchio e poi l'ultima cosa che ho preso su asos è stato un tappeto un tappeto da mettere nel mio studio mi piaceva la forma mi piacevano i colori l'ho pagato circa sui 13 euro se non ricordo male mi piaceva e quindi l'ho preso da mettere nella mia stanza nel mio studio dove terrò tutti i miei trucchi tutte le mie cose a casa nuova e l'ultima cosa che vi faccio vedere è questo prodotto di make up che ho ricevuto da mac si tratta di una cipria iridescente una cipria satinata vediamo se riesco a farvela vedere sul palmo della mano il colore è una cipria in polvere libera innanzitutto che si può utilizzare per fissare il make up si può utilizzare anche semplicemente sul viso per dargli quel leggero effetto iridescente proprio perché all'interno di questa cipria ci sono dei pigmenti infatti è consigliabile utilizzare una piccola quantità di prodotto perché altrimenti si ha il viso completamente pieno di strassi di brillantini perché all'interno ci sono delle microperlescenze dei pigmenti quindi resta una cipria super satinata questo effetto perlato sul viso l'effetto però è molto carino perfetto magari per le feste volendo si può utilizzare anche sulla palpebra per dare giusto un tocco di luce perché anche se si sfuma bene tutto il prodotto sul viso sul viso sul viso restano comunque si notano un po' i brillantini quindi deve piacere questa cosa potrebbe essere cambiata leggermente l'inquadratura perché si è scaricata la batteria e ho dovuto ricaricarla comunque non ricordo dove ero rimasta ma vi sto dicendo che volendo potete utilizzare anche questa cipria insieme a un fondotinta mettete un po' di fondotinta sul dorso della mano aggiungete poca di questa polvere libera mescolate poi andate ad applicare il fondotinta così avete il viso leggermente più satinato se come effetto vi può piacere ancora insieme al fondotinta in realtà non l'ho provato però Mac consiglia anche di utilizzarlo insieme a un fondotinta e insieme a una crema quindi sicuramente proverò nulla spero che questo video vi sia piaciuto se è così se volete vedere altri video spolliciate così continuerò a registrarne altri e farò anche altri shopping iscrivetevi al canale cliccando sul testo qua sotto per non perdere tutti i miei prossimi video ragazzi vi ringrazio per aver seguito questo video ci vediamo e nel prossimo ciao 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 ciao